musica benvenuti sculati in questo video sono 5J no no sono Marco che diciamo che gli diciamo dai dimmi che gli diciamo il contesto è finito chi ha partecipato ha partecipato chi non ha partecipato si attacca al poverini non potete più partecipare stiamo estraendo il vincitore estraeremo il vincitore a sorte col metodo primitivo metodo vecchia scuola bigliettini nel cestino agitiamo, giriamo, tiriamo fuori e io estrarò il vincitore esatto e niente tutto qua ci sto a culo perché noi siamo e io sono Flau è Flau la mia ragazza e niente volevo portare anche Jack ma Jack abita a Bologna io abito a Roma c'è un problema di come dire chilometri sì qualche problema di qualche centinaia di chilometri diciamo solo solo ricerca e niente comunque avrete la foto di Jack non lo do come come ho promesso come ho promesso quella l'avrete sicuramente e niente facciamo un piccolo taglio e andiamo direttamente al sorteggio ecco Flau a che ci appresta ad arrotolare tutti i bigliettini uno a uno dia una forma concentrica a tutti quanti così non possono dire eh ma tu avevi il bigliettino aperto tu sapevi il nome mortacci tu ha capito è tutto là il coso palline circoncentriche più o meno faccia vedere la pallina più o meno tutte pallinosi sono così non potete metteremo tutto e non lo indrogliate schifosi lecchini sapete già il nome va vai rotola rotola c'è tutto eh così non dite eh ma poi vi imbrogliate guarda i bigliettini fai Flau a pesca in uno aspetta no no si lo dicono hai messo le mani smucina smucina pesca in uno ok a casaccio il vincitore del contest è ecco quello con il nome più lungo apposta non si lo toglie tutto jovi02 enjoy the fan l'ha letto bene spero di sì si l'ha letto bene lo facciamo anche vedere aspettate o meno si mettete a fuoco è luce aspettate che apriamo pure l'altro così non dite eh ma voi imbrogliate perché perfetto è finito nel cassetto sì vabbè finito nel cassetto dopo lo diremo per parcondicio adesso ancora leggi il cappello così facciamo vedere che ci stanno tutti i nomi vedi vedi che ci continci io che non so dove stanno le cose della telecamera vedete che ci stanno tutti i nomi scusate magari la caricografia se non vi piace tanti dicono che è carino pare che scrive come bocelli chi è questo vedi vedi ci stanno tutti vabbè ci stanno millimila da aprire comunque sì ecco li sono tutti qua ok vedono a posto benissimo allora ritiriamo fuori i giovi dal cassetto ecco qua che era caduto nel cassetto tra l'altro congratulazioni per aver vinto questo primo contest ti contatteremo un privato ti daremo tutte le gare il prima possibile anzi no probabilmente il giorno stesso del video c'hai un culo giovi porco dinci rispetto niente e niente al prossimo video al prossimo contest grazie per aver partecipato grazie per aver partecipato vi voglio bene a presto la foto di jack ciao sculati grazie a tutti